Sostenibilità è la parola chiave del futuro e Redel Green Energy si occupa da più di 40 anni di efficientamento energetico ed energie rinnovabili. Il futuro è green. Scegli Redel. Ti sei diplomato da poco o vuoi completare i tuoi studi universitari? Studia da casa senza rinunciare a niente e spendi di meno. Con Possidonea raggiungerai il tuo obiettivo sfruttando al meglio il tuo tempo. La vita è una grande avventura. Seymar Elettricità, dove c'è luce. Amaro del Capo. Ghiacciato. Accende la festa. A grandi passi ci stiamo avvicinando nella fase più importante dei vari campionati direttantistici a partire dalla quarta serie dove già da questa domenica sono iniziati appunto a delinearsi le varie classifiche. La Vibonese e il Trapani, scusatemi, avendo vinto la gara forse più importante della stagione 5-2 sul campo di Vibbo, si porta a più 4 dalla Siracusa fermato a Barcellona e avendo anche lo sconto con il Siracusa proprio al provinciale di Trapani. Quindi possiamo dire che il campionato è parzialmente chiuso. Nel campionato di eccellenza invece il Sambiase vince lo sconto con il Cittanova e stromettendo appunto la formazione della piana per la vittoria finale del campionato. E a questo punto la lotta sarà tra il Sambiase e la Vigo e la Mezza. Si affermano restando che i punti di distacco sono ben 8. Parleremo anche del ciclone Bandecchi che in questo fine settimana è stato a Reggio Carambia e secondo me le proposte non vanno fatte all'interno di un teatro ma le proposte vanno elaborate, vanno eventualmente fatte attraverso l'invio di una PEC. Quindi mi è sembrata una vera e propria provocazione quella di Bandecchi sabato dal teatro Cilea. Parleremo anche del torneo delle regioni che avrà inizio nel mese di marzo, si giocherà in Liguria e vedremo anche le immagini di questo interessantissimo convegno di presentazione che c'è stato ieri a Genova. E poi parleremo anche di altro. Intanto buonasera al tecnico Nevi Orlandi. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera anche al direttore sportivo della LFA Reggio Carambia Maurizio Pellegrino. Buonasera, grazie dell'invito. E approfitto anche per ringraziare il responsabile dell'Ufio Stampa dell'FA Reggio Carambia Giuseppe Pratico. Andiamo con il primo contributo perché due giorni fa si è spento, credo, la leggenda del calcio. Caro direttore, caro mister, le leggende non muoiono mai, le leggende rimarranno sempre. Credo che Gigi Riva, stiamo vedendo queste importanti immagini, bianco e nero, quando ha permesso con i suoi gol all'Italia, non solo al Cagliari, di fare passi, ma anche passi gigantesi. Un calcio che non c'è più, ma soprattutto leggende che non ci sono più. Mister, un ricordo. Beh, intanto io ho avuto la fortuna di vederlo giocare del vivo, diverse volte, stiamo parlando veramente di un mito, di una persona che non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo ha dimostrato di essere veramente un grande. Va via un pezzo della nostra storia, un pezzo importante. Sono molto rammaricato di quello che è avvenuto, sembrava che le cose dopo il ricovero potevano aggiustarsi, invece poi le cose sono precipitate. Gigi Riva, uno che ha dato tanto al Cagliari, vincendo il campionato nel 70, uno che ha rifiutato di tutto nel calcio, quando forse tanti altri avrebbero fatto delle scelte diverse. Uno che si è legato molto a questa terra, pur non essendo un sardo, ma lui credo è la provincia di Legnano, giù di lì, uno del lago. Uno che ha avuto una vita piuttosto travagliata da piccolino, molto legato alla sorella. E' uno che ha dato la nazionale tanto, non solo sotto il discorso delle prestazioni, dei gol, ne ha fatti forse il più longevo capocannoniere, di 35 gol, una cosa di queste. Ma ha dato tanto anche sotto l'aspetto finito, non dimentichiamo che lui ha avuto due fratture proprio giocando con la nazionale. E quindi, al di là di tutto questo qui, resta veramente un pezzo di cuore che va via per il calcio italiano. Maurizio, si dà il calcio è cambiato rispetto a 40 anni, mezzo secolo fa, però se uno è uomo, è uomo sia 50 anni fa e sia adesso. Giustamente il mister ha detto, va via un grande calciatore, va via un grande uomo. Quello che adesso manca, manca il calciatore e manca anche l'uomo. Avvia un pezzo di storia importante del calcio, come ha detto bene il mister, per tutto quello che ha passato, un'infanzia difficile, un uomo che voleva anche riscattarsi da questa infanzia difficile e che ha trovato e che ha trasmesso soprattutto valori sinceri, reali, attraverso lo sport, attraverso la riconoscenza di chi l'ha aiutato. Quindi veramente un esempio straordinario di un calcio di una volta, ma di un campione di una volta, che secondo me ha tanto da dare però al calcio di oggi. Il suo esempio è un esempio che veramente dovrebbe essere seguito da, non dico da tanti giovani, ma dovrebbe essere rimarcato per quello che lui ha rappresentato all'interno del calcio, ma soprattutto come uomo legandosi a una città come quella di Cagliari, non volendosene andare, rimanendo lì, vincendo lo scudetto, ma ripeto, trasmettendo ogni forma di valore che non ha fatto altro che poi riempire di grandezza questo grande campione. Era credo doveroso da parte mia, da nostra, veramente ricordare attraverso queste immagini che abbiamo rubato da YouTube, tra virgolette rubato in maniera così ci viene spontaneo dire rubato, però non le abbiamo rubato, a ricordare davvero una leggenda, un mito del calcio italiano. Adesso parliamo di fatti nostri, parliamo del campionato di Serie D. Prima di andare con le varie domande vi faccio vedere tutti i gol di questa giornata, ce ne sono stati davvero tanti, addirittura 7 a Vibbo e poi questa sconfitta incredibile che c'è stato anche un post-gara lì a Barcellona tra Legge Virtus e Siracusa. Vediamo. Doveva essere la giornata del sorpasso, diventa la giornata che forse chiude il discorso primo posto, perché al novantesimo un Trapani determinato e fortunato porta a casi tre punti da Vibbo. Il Siracusa perde il derby di Barcellona e scivola a meno 4 con una partita in più. Eppure alla fine del primo tempo le cose si erano messe esattamente come speravano gli R2-6, con il Trapani colpito due volte in contropiede con Favetta al dodicesimo e con Giotti poco prima dell'intervallo. Nella ripresa però il Trapani si accende e siccome la fortuna aiuta sempre chi se la va a cercare, convitto liberato da un erroraccio della difesa calabrese segna il più classico dei gol dell'ex. Fortuna che c'entra anche con il gol del pareggio, perché l'arbitro prende un abbaglio clamoroso e valuta dal rigore un intervento di Casalongue che appare netto sul pallone. Fatto sta che dal dischetto Cocco pareggia la partita. La Vibonese a questo punto va in bambola, Puka tenta il suicidio sportivo, Del Bello ci mette una pezza ma poi non può arrivare sul controcross all'inzuccata di Cocco. E a questo punto il Trapani dilaga, manca all'appello alla firma di Kragl che arriva con un abbordata su punizione, poi ancora Cocco con un chirurgico sinistro fa addirittura 5-2. Nel finale occasione per la Vibonese di accorciare le distanze, ma il rigore procurato da Tandare viene respinto allo stesso Tandara dal piede di Uikai. Il Siracusa al contrario si fa rimontare dall'Igea Virtus. Aretto sei avanti con la punizione millimetrica di Aliperta, nella ripresa però Longo al volo fa 1-1, lo stesso Longo al minuto 40, pennella per la testa di Di Piedi che completa la rimonta. Si sgomita in zona playoff dove sono due le imprese di giornata, la prima è il pari del San Luca in casa della LFA Reggio Calabria, ospiti avanti con la zampata di pelle a un soffio dall'intervallo, recupera la squadra di casa grazie alla punizione di Perri. L'altra impresa è quella del Sant'Agata che va a sbancare casa al nuovo, i gol tutti nel primo tempo, vantaggio firmato da Alagna, prima dell'intervallo Najin sacca il gol del raddoppio. Scivola al nono posto la Cireale, fermo per il secondo turno di sosta consecutivo, staccato dall'Icata che dopo due sconfitte di fila si impone 3-0 in casa dell'Ocri. Siciliane avanti con l'inzuccata di Calaio allo scadere del primo tempo, nella ripresa raddoppia rotulo in contropiede, poi il solito Saito chiude i conti con un secco tiro da centro area. A Cireale che viene scavalcato anche dal Ragusa, che spugna 2-0 all'esseneto di Agrigento, i gol maturano entrambi nella ripresa, la sblocca Romano su assist di Maltese. Lo stesso Maltese si mette in proprio al minuto 95 e chiude i conti. In coda cade il portici nello scontro diretto in casa della San Cataldese, decidono il rigore concesso ai padroni di casa e trasformato da Zerbo nel recupero del primo tempo. Nella ripresa il 2-0 porta la firma di Scalia. Arrivano infine, come da pronostico, i tre punti per il Canicattica e supera 3-0 la Gioiese. Vantaggio firmato da Sidibe al ridosso dell'intervallo. Nella ripresa prima Pussetto, poi Boniglia a rotonda nel punteggio. Direttore, un campionato che poteva essere riaperto, invece possiamo dire che è semichuso? E' chiaro che è compromesso, soprattutto la rincorsa di Siracusa e Trapani, ma non è assolutamente chiuso, mancano ancora tantissime partite. Visto anche il vantaggio del 2-0 alla fine del primo tempo da parte della Vibonese e poi la vittoria schiacciando nel secondo tempo del Trapani, indipendentemente dagli episodi negativi, fa pensare che questo Trapani effettivamente ha una marcia in più rispetto a tutte le altre. Però, ripeto, ancora mancano tante gare e è chiaro che rimontare il Trapani adesso non è per niente semplice. Tanta gente, questa domenica Luigi Razza, oltre 3.000 persone, tra le tante c'era anche Nevi Orlandi, che orgogliosamente, Pippo Gaffo all'intervallo, ci ha voluto ricordare l'unico allenatore che ha vinto un campionato importante, appunto, è Nevi Orlandi. Purtroppo non siamo stati buon profetti, caro mister, perché, se ben ricordi, abbiamo detto che il raddoppio di Ciotti avrebbe significato una migliore gestione nel corso della ripresa. Nel corso della ripresa mi pare che è venuto a mancare un po' di Trapani, ma io vorrei partire dall'inizio. Probabilmente non vogliamo cercare il perono nuovo, la cattiva gestione arbitrale, qualche ammunizione di troppo, qualche ammunizione ci poteva stare nel primo tempo, forse ci poteva stare anche l'esfuzione di Cocco e poi quell'errore che ha permesso il primo gol e quel calcio rigore, tra virgolette, un po' inventato, ha fatto il resto. Diciamo che forse il Trapani non si aspettava una Vibonese così agguerrita, sotto il piano fisico, arrembante, è stata superiore nettamente per 50 minuti. Possiamo mandare anche gli spezzoni intervallati nella partita di Vibbo? E quindi per 50 minuti, pur aspettando come atteggiamento tattico, il Trapani ha sostanzialmente la partita, la condotta, perché la condotta sui ritmi suoi, la condotta nell'idea dei contropiedi, prova ne è il primo gol di Favetta e anche tutto sommato il gol di Ciotti, dove una indecisione sulla tre quarti in uscita da parte di Trapani ha permesso che la Vibonese riprendesse palla, lanciando poi Ciotti in un ottimo gol, oltretutto con forza e con precisione. Sono d'accordo con te sul discorso dell'arbitraggio, non mi è piaciuto, poteva fare meglio proprio nella distribuzione eventualmente dei cartellini gialli, però d'altronde la categoria è questa, quindi come ci sono i calciatori di Serie D, evidentemente ci sono anche le terne per questa categoria. Sicuramente l'infortunio, chiamiamolo così, del difensore, che oltretutto avevano fatto molto bene la coppia dei due centrali della Vibonese, giocando sempre sull'anticipo, guidando molto bene anche il reparto di centrocampo e gli stessi esterni che avevano sulla propria linea, ha lavorato veramente bene, con grande ritmo e con grande attenzione. L'infortunio c'è stato, una valutazione sbagliata probabilmente della palla come rimbalzo, ha fatto sì che venisse fuori il 2-1, che poi sicuramente ha lasciato il segno nella testa dei ragazzi della Vibonese e ha dato vigore chiaramente al Trapeni. Quando i ritmi si sono un attimino abbassati, è venuta fuori sostanzialmente la qualità degli interpreti del Trapeni. Il rigore, sono d'accordo con te, non c'era, forse ce n'era uno prima, ma sicuramente quello che ha dato è lì eventualmente ha sbagliato due volte l'arbitro, se ha voluto compensare. Non c'era assolutamente, però chiaramente poi il 2-2 ha dato ancora più forza al Trapeni stesso, che ha lagato su un risultato anche troppo ampio nel numero 5-2, che secondo me non ci stava assolutamente, e ha fatto sì che il morale dei ragazzi della Vibonese venisse meno e anche sotto l'aspetto tattico si sono perse le distanze tra i reparti, tra i singoli, qualche accorgimento si poteva fare, a mio avviso, soprattutto a destra, dove hanno avuto la maggiore difficoltà nel secondo tempo, però questa è stata la partita, il Trapeni ha dimostrato di essere la capolista, ma non sicuramente per 60 minuti. E allora escludiamo queste immagini, li riprenderemo tra qualche minuto, andiamo al Granillo, dove c'è stato questo pareggio che evidentemente il direttore sportivo Pellegrino non l'aveva assolutamente preventivato. Io non ho visto la partita, l'ho visto la sera in tv, c'è stato un arremmaggio vero e proprio da parte della Reggio Calabria, dove ha sbagliato tantissimo, il San Luca ha fatto un gol molto bello a parte di Toto Pelle, che ritornando al discorso che faceva prima il Bister, non su Pelle, ma sugli infortuni, se avesse avuto qualche infortuni in meno, probabilmente questo Pelle avrebbe giocato in campionati professionistici. un pareggio che lo fotografiamo come direttore? Sicuramente non abbiamo ottimizzato quelle cinque vittorie consecutive che avevamo fatto e quindi questo doveva darci ancora forse stimoli in più, più cattiveria per fare la sesta di vittoria, ma soprattutto perché giocavamo in casa, dove abbiamo in questo campionato avuto tante difficoltà a sbloccare le partite, tante difficoltà a cercare di essere determinanti da subito, di determinare le partite, quindi avevamo bisogno di proseguire, di avere continuità, soprattutto in questo senso. L'avevamo fatto buona parte con la Ciriale, quindi c'era molto più gioco, c'era fluidità di gioco, si iniziavano a determinare le giocate, veramente una bella partita contro la Ciriale e dovevamo continuare su questa falsariga, su questo aspetto mentale, tecnico, tattico e così è stato, perché bene o male nel primo tempo abbiamo creato tanto, però quelle tantissime occasioni che abbiamo creato andavano concretizzate e come succede spesso nel calcio se non concretizzi poi dopo rischi di pagare a caro prezzo. Su una ripartenza del San Luca dopo non aver sfruttato le tante occasioni effettivamente Pella ha fatto un gran gol, siamo arrivati all'intervallo sotto di un gol, proprio all'ultimo secondo della fine del primo tempo e non è mai facile rientrare in campo e ribaltare le gare contro qualsiasi avversario. Siamo riusciti a pareggiarla, però insomma rimane l'amaro in bocca non tanto per la prestazione ma forse perché dovevamo essere un po' più concreti e determinati nel sbloccare. Ecco a proposito direttore, nell'economia della classifica l'abbiamo già detto tutti che la regina è partita con un netto ritardo quindi non ha potuto fare un mercato adeguato rispetto ad altri. Ecco nell'economia della classifica secondo lei quanto pesa o quanto ha pesato o quanto peserà l'assenza di un vero e proprio attaccante? Perché voi la differenza di questi campionati voi me la insegnate, lo fanno gli attaccanti, la fanno gli attaccanti. Ma questo è un discorso che parte da lontano. Io giustamente sento parlare della necessità degli attaccanti, degli attaccanti che fanno la differenza, però bisogna guardare le cose secondo me più ad ampio raggio. L'attaccante è quello che in teoria, se non in pratica, spesso e volentieri finalizza. Le opportunità che vengono create sono frutto di un lavoro di squadra e l'attaccante bravo è quello che ha un'opportunità, un gol. Quindi in percentuale delle opportunità che può avere la fase realizzativa è quella che poi fa la differenza dell'attaccante stesso. Noi siamo partiti, come diceva lei, in piena emergenza sotto questo aspetto, ma non potevamo mai preventivare di avere degli infortuni, di avere delle assenze, di avere delle carenze anche nel reparto offensivo. Cosa che abbiamo avuto subito dall'infortunio di Rossetti, giocando con Coppolo che era un 2005, e che non avevamo neanche grande possibilità di poter intervenire in maniera forte, in maniera sicura per trovare quello che facesse al caso nostro. Abbiamo dovuto aspettare, abbiamo dovuto poi incrementare con Bolzic il reparto offensivo e quindi riteniamo che il lavoro poi può essere ovviamente giudicato come giusto che sia, criticato, fatto bene, fatto male, ma i tre attaccanti comunque ce li avevamo. Non potevamo preventivare gli infortuni, soprattutto quello di Rossetti, un giocatore a mio avviso molto importante per la categoria. Il ragazzo per un motivo o per l'altro ha avuto diversi problemi fisici e quindi ci siamo trovati carenti sotto questo aspetto. Ma avevamo la necessità di intervenire nell'equilibrio di squadra. Noi ricordiamo che siamo la migliore, tra le migliori difese in circolazione e quindi questo è un punto di riflessione. Era talmente difficoltoso costruire la squadra, era talmente problematico, anzi la percentuale di errore era altissima, dove noi potevamo sì, trovarci in questa condizione di classifica, ma anche molto peggio. Quindi avevamo necessità e esigenze di creare un equilibrio di squadra che potesse garantire una difesa solida e piano piano iniziare a costruire per dare qualcosa in più a questa squadra. E' da questo che si dovrebbe partire. Ti faccio rifiutare. Capita a Fagiolo, caro mister, perché proprio in queste ore è stato ufficializzato un ragazzo che ti conosci molto bene, tra l'altro l'ha fatto esordire con l'Inter, Adejo. Cosa può dare e quanto può dare Adejo a questa squadra? In un campionato che evidentemente non conosce, però l'esperienza può fare molto. Giustamente l'esperienza, alla base di tutto, oltre alle sue... Ora, io l'ho perso un pochino di vista, ultimamente, dicevamo prima, nell'ultimo periodo era in Grecia, quindi ha fatto dei campionati anche lì, ma ha girato molto. Quindi sotto il profilo dell'esperienza certamente sì, è uno che può dare molto ai giovani, ai meno giovani. Sotto il profilo fisico lo vedremo, quale saranno le sue condizioni. E' un calciatore che sicuramente nasce anche, tra virgolette, dal gruppo Regina, quindi conosce anche bene la città e credo che abbia a cuore quello che è appunto il suo passato, quindi che nasce dalla regina e da lì poi è stato quello che gli ha dato il via ai suoi successi e alle sue... Dottore, adesso come si arriva al calciatore per farlo ritornare a Giocanab fisicamente come lo ha trovato? Eventualmente sbaglio anche persona perché questa domanda dovrei farla a Trocini, ma so che evidentemente la posso fare anche a te. Se potrà essere arruolabile anche domenica a Siracusa? Sì, ritengo di sì. È tutto a posto anche da un punto di vista federale. Aspettiamo conferma domani, ma credo che non ci siano problemi. Noi siamo sensibili, ma perché ci crediamo fortemente ad avere più regginità possibile all'interno della squadra. Perché chi ama questo territorio, chi è attaccato a questo territorio può solo trasmettere un grande senso di appartenenza, ma soprattutto esporta in maniera sincera tutto quello che si fa all'interno del centro Sant'Agata. Vanno in giro a parlare di questa società, vanno in giro a parlare di questa squadra e più reggini ci sono all'interno di questa società e di questa squadra, non può che renderci orgogliosi e ancora più vogliosi di voler fare le cose per bene. Adegio è un altro giocatore, figlio del Sant'Agata, anche lui si è reso subito disponibile nel momento in cui gli si è prospettata questa opportunità, ma in maniera entusiastica. Quindi siamo contenti di averlo perché è un ragazzo che può darci tanto da un punto di vista dell'esperienza, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico. Ricordiamoci sempre, e questa è una cosa che lo dico a cuore aperto, cercando, speriamo, di poter aprirmi in maniera definitiva in un messaggio che deve essere, secondo me, un messaggio dove deve fortificarci un po' tutti. Noi stiamo costruendo per vincere. Noi stiamo lavorando 24 ore su 24. Spesso lo facciamo in silenzio e magari forse esageriamo in questo senso, ma stiamo lavorando per vincere. Noi abbiamo la consapevolezza che il Reggio Calabria, che la Reggina, debba necessariamente vincere. Siamo convinti di poter non solo raggiungere questo obiettivo, ma abbiamo, come dicevo prima, la consapevolezza di costruire giorno dopo giorno questo obiettivo. Se non si entra in questa dinamica, se non si entra in questo contesto, è perché francamente non lo si vuole fare. Ma questa è la nostra intenzione. Ci stai preparando e ci prepariamo, in base a questa tua consigliazione, che mi trova pienamente d'accordo, a dialogare, a commentare nella seconda parte di trasmissione, per il momento pubblicità. Questo programma è realizzato in collaborazione con Seconda Via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria, i migliori brand nazionali ed internazionali. Ci trovi a Reggio Calabria, in via Santa Caterina 234, presso il parco commerciale Le Linfee, e a Villa San Giovanni, presso il centro commerciale La Perla dello Stretto. Per il giorno delle vostre nozze, sala Madame Lillà, perché i piccoli gesti, i caldi sorrisi e gli sguardi carichi di effetto rimangono impressi nel cuore. Sala Madame Lillà, a Palmi, in Contrada Tauriana, telefono 0966 47 93 80. Allora, torniamo in diretta. Mister, tu sei nato in Sicilia? No. Lombardo, pardon. Ho confuso il tuo passato con l'allenatore del Vittoria, però sei un regino d'adozione. Conosci molto bene l'ambiente di Reggio Calabria. Mi rendo perfettamente conto, e qui vorrei che partissero dei messaggi, mi rendo perfettamente conto che la città di Reggio, in questi ultimi anni, è stata usata. Gallo, Saladini, non entro nel merito. Adesso arriva una proprietà da Catania, Ballarino, Bonanno, Pellegrino. Non hanno promesso nulla, non hanno detto qui, spacco là, non si sono presentati con i pullman, non si sono presentati con l'aereo privato. Qui la metto anche sull'ironia. Qui sta vedendo Maurizio Pellegrino che sta parlando con un tono molto pacato, molto riflessivo. Secondo te, Mister, visto che conosci Reggio, cosa serve per ricompattare l'ambiente? Perché qui vedo l'uno contro l'altro, l'altro contro uno e non si va da nessuna parte. Sicuramente questo non fa bene. Non fa bene alla squadra che in questo momento rappresenta Reggio Calabria e non fa bene soprattutto anche per il futuro, non solo nel presente. evidentemente troppo dicerie, evidentemente troppe chiacchiere, ma bisogna essere dentro il problema sicuramente per poter dare dei giudizi. Diceva bene prima il direttore che parlando sotto il profilo tattico della squadra è sempre dal basso che devi costruire. Quindi nel discorso si parlava di difesa, giustamente creando i suoi equilibri, ma qualsiasi progetto va costruito dal basso. Quindi non si può dall'oggi al domani avere la bacchetta magica e andare ad ottenere dei risultati che solo nel tempo si possono ottenere. Già le difficoltà di una partenza per come è stato, con tutto quello che sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, era una difficoltà e probabilmente lo è ancora, perché? Perché si porta dietro degli strascichi per quel tempo che non c'è stato per costruire. Quindi non solo sotto il profilo della squadra, le cose vanno fatte con i tempi dovuti, e chiaramente anche sotto il profilo dell'ambiente. La squadra è questa, in questo momento rappresenta la città di Reggio Calabria, e quindi chi vuole bene alla città di Reggio Calabria, secondo me, deve andare verso questa direzione. Ho sempre detto, caro Maurizio, tu sei un uomo di campo, un uomo di sport, e poi lancio il prossimo servizio. Ho sempre detto, caro direttore Pellegrino, che se la politica si mette a fare sport, siamo rovinati. E probabilmente la rovina della Reggio Calabria arriva anche attraverso la politica. Ma entriamo... No, perché qui ti spiego subito, qualsiasi cosa si dice viene strumentalizzata, quindi è motivo anche di scontro. Quindi mi rendo conto delle tue ipotetiche difficoltà che potresti avere nel rispondere. No, io penso che la predisposizione debba essere quella che devi accettare, tra virgolette, tutto. Noi per esempio nel nostro percorso fino ad oggi abbiamo sicuramente commesso degli errori, lo sappiamo ed è giusto dirlo. Abbiamo fatto tante cose, secondo me, buone ed è giusto manifestarlo. Possiamo fare ancora meglio ed è giusto dirlo. Ma abbiamo un solo obiettivo, uno solo che è sempre quasi maniacale, che è quello di costruire per vincere. Su questo non ci piove. E ci piacerebbe avere tante componenti, invece di respirare un po' di frammentazione, ci piacerebbe avere tante componenti tutte insieme, che arrivassero poi a un punto nel giudicare il lavoro fatto, come è giusto che sia. Anche una critica molto feroce, molto diretta, se non si rispecchiano determinati parametri, se gli obiettivi non vengono raggiunti. Ma questo è giusto che ci sia. La cattiveria, il pregiudizio nei confronti di queste cose dello sport fa sempre male. Perché comunque dietro ognuno di noi c'è sempre una storia personale, c'è una famiglia, c'è un percorso, ci sono tante cose. Ecco, noi siamo qui per quello che mi riguarda e per quello che ci riguarda insieme all'area tecnica, ai giocatori, all'allenatore, per fare il massimo in questo momento, ma per costruire, per vincere. E abbiamo, mi permetti un qualche secondo, abbiamo in chiaro anche gli obiettivi da raggiungere, che non solo solo l'obiettivo sportivo, che è assolutamente fondamentale in una piazza come Reggio Calabria, ma dobbiamo crescere, e lo stiamo facendo come società, e soprattutto all'interno di questo obiettivo ci deve necessariamente, obbligatoriamente, essere la valorizzazione dei giovani, che è un altro aspetto dove si parla tanto, ma nella praticità delle cose e nei fatti è molto difficile farlo. Noi squadre abbiamo 12 under che sono bravissimi, che sono bravissimi, hanno solo bisogno di serenità, di tranquillità, affinché loro possano crescere e maturare con la maglia della reggita. A proposito, mi pare che proprio nella giornata di oggi c'è stato un vostro giovane atleta, Under 16, della Nazionale Chirico, che ha effettuato lo stage presso il centro Fedea di Catanzaro. Noi abbiamo veramente una risorsa tecnica in questo momento importante, che è legata a questi ragazzi, e questo è un altro degli aspetti positivi che ci stiamo portando dietro. E quindi, ecco, io vorrei che si respirasse più positività in questo senso. Ci stai stimolando per altre domande, perché quando tu mi parli di giovane, qui abbiamo uno che veramente ha iniziato la sua carriera qui a Reggio Calabria attraverso il settore giovanile, supportato soprattutto da una grande struttura di Sant'Agata, e a proposito dovremmo parlare necessariamente di Sant'Agata. Fai questo, farò arrebbiare qualcuno in società, il dottor Ballarino, ma fa niente. La società mi ha sempre sollecitato a migliorare la squadra, anche con qualche giocatore over. Siamo noi, diciamo, dell'area tecnica, che freniamo questa situazione, cercando invece di inserire più giovani possibili, più Under possibili. Perché? Perché la prospettiva di crescita e dell'obiettivo finale, che è quello di vincere questo campionato, ovviamente non quest'anno, ma il prossimo anno, deve necessariamente essere legato anche a questo. Perché i giocatori importanti arriveranno, ma lo zoccolo duro deve essere questa regginità, questi ragazzi, tanti giovani di Reggio Calabria, tanti giovani che hanno fatto già e che hanno maturato quest'anno con questa esperienza, perché questo deve essere assolutamente il punto di partenza. Poco meno di due minuti è il prossimo contributo che arriva appunto dal Cilea di Reggio Calabria, dove questo sabato è arrivato Bandecchi. Questo è anche motivo di discussione nel momento in cui rientriamo in studio. Vediamo. Allora io siccome non adoro il signor Cia, io adesso sto emozionato per questa cosa, ma voi mi gratificate, perché capisco cosa vuol dire per voi questa maglia e capisco cosa vuol dire per tante persone. Quindi a Reggio la reggina non è soltanto una parola, è qualcosa di importante, di molto importante. E allora io voglio essere concreto, quindi senza spocchia e senza mezzi termini e soltanto con la mano sul cuore per amicizia nei confronti di tutta la tifoseria reggina. La mia università metterà una sponsorizzazione a disposizione della reggina, se vorranno accettarla, di 100.000 euro. Da ora è a disposizione di qualsiasi stanza. Guardi, mi creda, sono imbarazzato. Il mio è, e l'ho voluto sottolineare, spero che voi giornalisti lo scriviate per com'è. Oggi ho ricevuto un'altra maglia della reggina, l'ho ricevuta in un momento dove parlavo di altro. Ripeto, gli ultrat della reggina mi hanno applaudito all'interno del campo. Non sono cose che possono essere né sottovalutate né dimenticate. Solo un uomo sciocco le dimenticherebbe. Io ho buona memoria. Oggi la reggina non è mia, ma voglio dimostrare amicizia nei confronti di Reggio materialmente. Perché è inutile che facciamo tante chiacchiere. E quindi metto sul piatto 100.000 euro che serviranno alla reggina, appunto. Badecchi, mi perdoni, la porta tra Badecchi e la reggina è aperta oppure chiusa? La reggina ha una proprietà salda, sana, che oggi deve fare un campionato. Quando mai nel mondo cambiasse qualcosa, datemi un colpo di telefono. Eventualmente se Maurizio vuole rispondere, con piacere, se non lo metti in difficoltà. No, no, non mi metti assolutamente. No, nel senso che da lì è partita anche un ulteriore spaccatura nell'ambiente. Voglio essere sincero. A me è una persona che sta, tutto sommato, anche simpatica. Cioè, è una persona che, quando parla, perché dubitare rispetto a quello che dice? Poi le sue idee possono essere condivisibili o meno, può essere criticato per i modi o meno, però è una persona che va comunque rispettata, come tutti quelli che si mettono in mostra e come tutti quelli che parlano in pubblico. Lui oggi si è messo in politica, fa il suo lavoro, cerca di fare al meglio il suo lavoro e basta. Quindi, ma io alla base metto sempre rispetto per tutto. Poi, ripeto, le cose possono essere condivisibili o meno, ma le persone in ogni caso vanno rispettate. Nevio, più che domanda, nell'ascoltare Bandetti che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea di cose magari anche nel passato o da altre parti già sentite, poi alla fine io dico sempre che sono i fatti quelli che contano, il tempo potrà dire la sua e mettere eventualmente, dare quello che effettivamente forse c'è, non lo so. Io lo conosco così, probabilmente lo conosco anche meno di te, visto che sei fatto un'intervista in diretta. Però dico solo che è un personaggio, sicuramente che si è dato alla politica, come diceva il direttore. Credo che per niente nulla faccia a nessuno, non faccia niente, e quindi avrà le sue idee, avrà un suo progetto. Se ci sarà qualcosa di buono lo dirà il tempo. Allora, mister, la regina nelle settimane passate sarà sfrattata fortunatamente per qualche giorno dalla Sant'Agata. Scusami direttore, per qualche giorno è stata sfrattata dalla Sant'Agata, avete trovato ospitalità a Campocara, tra l'altro c'è stata anche una simpatica premiazione tra il sindaco Repaci e il direttore Gianella Ballarino. Adesso rientrate in pieno possesso della Sant'Agata per sei mesi, in attesa che ci sia il bando definitivo. E tu parlavi prima, caro direttore, il nostro futuro, anche il presente dei giovani. E tu lo sai meglio di me, che i giovani, per cercare di portarli su, debbano avere il supporto di una grande struttura. Ecco, come eventualmente vi state preparando all'elaborazione del nuovo bando, se ci sarà, quando ci sarà, cosa chiederete? Da un punto di vista ovviamente tecnico, riguardo al bando, non posso assolutamente rispondere. L'idea di Versace era quella di dare, di fare un bando a più società, magari la società A prende il campo 1 e 2, la società B prende il campo 2 e 3, addirittura si era anche ipotizzato di fare i campi di padel, però il Sant'Agata è nato e credo che debba rimanere il centro sportivo, per eccezione per il calcio giovanile. No, no, ma non ci sono dubbi nel poter creare un futuro all'interno di una struttura come il centro sportivo del Sant'Agata. Se ne parla tanto, io penso che sia anche inflazionato il discorso settore giovanile, sia inflazionato il discorso riguardo ai giovani, la verità è che ci vuole tempo, ci vuole competenza, ci vuole attenzione, ci vuole lavoro, ci vuole passione, ci vogliono investimenti, bisogna crederci. E Reggio Calabria, per tradizione, è sempre stato un territorio che ha sfornato tanti, tanti, tanti calciatori importanti. Voi per l'aspetto caratteriale, voi per la mentalità, ma esistono dei posti, dei territori dove ci sono molte più possibilità di uscita rispetto ad altri. Reggio Calabria è un territorio del genere, Reggio Calabria è un territorio che può far uscire fuori dei calciatori, perché proprio hanno questo tipo di predisposizione. Per cui, se non si ha la pazienza, come dicevo prima, la voglia, la passione, la credibilità e la competenza, pagare anche i professionisti che sono chiamati a fare un certo tipo di lavoro che non è per niente semplice, allora le cose possono complicarsi. Invece la direzione deve essere quella giusta, ma con grande, grande, grande determinazione. E poi anticipato la mia successiva domanda, visto che le tue idee sono abbastanza chiare per quello che riguarda il futuro giovane della Regina, avete in mente di ampliare la parte tecnica a livello di settore giovanile ed eventualmente, se nell'idea, c'è anche quella di creare una vera e propria struttura scouting? Ma, ripeto, per creare un settore giovanile che possa iniziare a incrementare e quindi a far crescere tutti i giovani, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Questo può essere aiutato, per esempio, da una crescita esponenziale da parte della società, di una, magari, categoria diversa, come per esempio, già un campionato professionistico, di creare anche conoscenza all'interno del territorio, creare credibilità all'interno di un territorio. Queste sono tutte cose che purtroppo ci vuole tempo, ma alle quali poi bisogna pensarci, perché senza di questo futuro, credo, non ce ne sia da nessuna parte. Noi abbiamo, secondo me, un aspetto che ci fa, per certi versi, come dire, etichettare, come se fosse anche una sottocultura, che è quella di non capire realmente che tutto ciò che si possa valorizzare all'interno di un territorio, ovviamente mi riferisco in ambito calcistico, è tutto risorsa, è tutto quello che può essere il futuro di una società, quello che può essere parere, una plusvalenza da parte di una società in poco tempo. Sono degli aspetti che oggi devono necessariamente essere lavorati e devono essere organizzati. E solo le persone competenti e le persone da un punto di vista professionale, quindi alzando di tanto anche la professionalità sotto questo aspetto ci si può riuscire a ottimizzare qualcosa, se no è impossibile La parola di competenze, mister, che aiuto, in questo caso morale, possiamo dare a questa società in ambito giovanile, perché ripeto ancora una volta tu inizia Reggio Canabia con il settore giovanile grazie al settore giovanile ci siamo, tra virgolette permessi di fare tanti anni di Serie A la Serie A non la fa dall'oggi al domani la Serie A la fai attraverso una costruzione di giovani e la fai anche attraverso delle plusvalenze che ci hanno permesso di andare a sederci voi nel tavolo con i grandi del calcio Sicuramente alla base c'è il tempo, giustamente come dice il direttore, sono cose che si costruiscono non dall'oggi al domani ma ci vuole tempo ci vogliono gli impianti sportivi fortunatamente a Reggio Calabria esiste un impianto sportivo che fu figlia di un'idea di Pino Benedetto questa è stata un'idea elaborata formata e sviluppata da una grande mente caro direttore che è riuscita a trasformare una discarica in uno dei centri sportivi più belli del Sud Italia e questa questa nascita ha un nome e cognome Pino Benedetto esatto quindi da lì poi si è partiti si è partiti con idee chiare idee di progetto tecnico anche di organigramma di settore giovanile lo scouting è importante va fatto io ricordo che io sono entrato nella Reggina nell'89 ho avuto modo di conoscere diverse persone che nell'ombra lavoravano e lavoravano fuori anche dalla città stessa non perché erano presenti al centro sportivo ma lavoravano fuori fuori dalle regioni e hanno portato hanno portato giovani che poi all'interno della struttura sono cresciuti e tanti sono diventati calciatori anche importanti quindi lo scouting va fatto va investito su queste figure va investito negli istruttori perché fare settore giovanile non vuol dire essere allenatore ma vuol dire principalmente essere un istruttore nella struttura però come abbiamo detto la struttura tutto sommato c'è e nel tempo che è la cosa fondamentale quindi questa grande ricerca va fatta e sicuramente si può tornare non so se a quei livelli però i presupposti ci sono perché abbiamo tante altre cose da farvi vedere è un dovere di una società indipendentemente da me o dal dottor Ballarino o dal direttore Bonanno che deve lasciare in eredità a qualsiasi altra società che possa entrare quello è il senso che non significa fallire per poter iniziare con una società nuova ma lasciare in eredità qualcosa di concreto qualcosa di strutturato e anche questo sarebbe bello essere anche ricordati e dico non parlo solo della regina ma chi ha la fortuna di esercitare all'interno di una società quando lascia quantomeno che possa lasciare un segno importante dittore tu hai parlato poco fa di noi lavoriamo per vincere noi lavoriamo per costruire noi già siamo pronti dal futuro lei sa meglio di me che sono cambiati i criteri per eventuali ripescaggi essere nei playoff e avere la grande fortuna di lavorare in una città importante come Reggio Calabria potrebbe significare molto quindi a regina nei playoff augurandoci e ne sono certo convintissimo di arrivarci vincere i playoff significa avere quasi un piede e mezzo nel campionato di Lega Pro questo non lo so però non dobbiamo neanche pensarci noi abbiamo il dovere intanto di fare il massimo e concludere al meglio questo campionato cercando proprio mentalmente di vincere partita dopo partita pensare di partita dopo partita e arrivare più in alto possibile se saremmo bravi ad arrivare alle prime posizioni e poi a disputare eventualmente anche i playoff abbiamo anche lì il dovere di provare a vincere poi quello che succede non lo possiamo sapere ma soprattutto ripeto ancora una volta costruire capire fino in fondo che potenzialità abbiamo oggi squadra quali possono essere giocatori funzionali per il prossimo anno e pensare a vincere a costruire in funzione di questo oggi devo dire che abbiamo veramente io in tantissimi anni avendo fatto anche il mestiere dell'allenatore ho trovato pochissimi gruppi come quello di quest'anno che si è trovato in mille difficoltà sempre reagito con grande con grande professionalità con grande serietà un gruppo straordinario ecco speriamo che riusciamo ancora soprattutto nei giovani a maturare calcisticamente a maturare in campo a continuare a migliorarci perché è solo quella la strada giusta per poter costruire la vittoria di un campionato la grande fortuna della nostra città caro direttore è il clima e lei deve sapere che un anno è composto a 360 giorni no? almeno 330 il grande mio affettuoso amico grande professionista Nevi Orlandi li dedica al mare lui si è parcheggiato arriva al mare in quel di Canitello anche a novembre lo vedi farsi il bagno prendersi il bessone però adesso il tempo del parcheggio caro misero è finito ci vorrebbe anche una bella una bella panchina ci stai pensando? io ci ho sempre pensato anche quando sto al mare ma sto al mare perché nessuno mi chiama e quindi sono costretto ma non ti chiama perché non ci sono progetti che sono che si avvicinano al tuo modo di concepire il calcio oppure allora diciamo che il calcio è cambiato è cambiato molto soprattutto nelle persone diciamo che è cambiato in peggio così non ci offende nessuno infatti io l'ho pensato ma tu sai che io lo penso e quindi l'hai detto tu e quindi non è facile a lavorare in qualsiasi categoria non è facile io devo dire che quel poco che ho fatto l'ho fatto sempre con grande passione l'ho fatto sempre con le mie competenze giuste e sbagliate che potevano essere però ci ho messo sicuramente ci ho messo me stesso è diventato un calcio dove tanti ci mettono la lingua e quindi ecco probabilmente questa è la mia difficoltà non che io non sia io nasco col confronto la regina è stata è stata una palestra non solo di vita ma è stata una palestra anche di sotto il profilo professionale ci sono nato mi ha cresciuto mi ha fatto diventare allenatore perché ero abituato al confronto al confronto tecnico al confronto anche di di giudicare qualsiasi cosa e quindi credo che forse sono visto come uno che invece vuole stare fuori da questi discorsi cosa che non è vera è diventato difficile perché poi il calcio è cambiato soprattutto con l'avvento dei procuratori dove si cerca di fare ognuno fa il proprio mistero ma i procuratori forse fanno troppo i procuratori quando io invece ho l'etichetta anche di aziendalista sotto questo aspetto quindi e mi è sempre stata bene perché ho sempre pensato che dove sono andato a lavorare lavoravo per quella società e quindi io sposavo il progetto della società e volevo fare il bene di quella società quando qualcosa dall'esterno mi veniva confrontato rapportato che non sposava l'idea mia e quindi quella della società io prendevo le distanze e forse questo non è piaciuto però quindi quando sarà possibile eventualmente ritornare a lavorare lo farò sempre con queste idee e con grande entusiasmo se no faccio quello che dici tu ogni tanto vieni a trovarmi a mare quindi ci prendiamo un po' di soli con estremo piacere adesso vi faccio vedere una grande una bella serie di partiti d'eccellenza prima andiamo a vederci il filmato che riguarda il torneo delle regioni che avrà inizio dal 22 al 29 di marzo ieri ci sarà la presentazione ufficiale a Genova possiamo vedere anche questo servizio alla presenza del presidente dell'LND Abede appunto vedrà la partecipazione della Calabria che gareggerà assieme alla Friuli Venezia Giulia assieme alla Campania ecco vediamo il presidente Abede appunto che sta presenziando che presenza a questo importante torneo che ci sarà prossimamente quindi vedere nel girone B la Calabria che giocherà con questa regione Italia e ci auguriamo appunto che questo sia l'anno buono affinché la Calabria possa arrivare in Calabria con un trofeo molto importante scudiamo queste immagini andiamo all'eccellenza vediamo il match che si è giocato a San Biase e che ha vissuto la vittoria per 2 a 0 da parte degli uomini di Claudio Morello una vittoria che permette appunto alla formazione di San Biase di rimanere sempre prima saldamente in classifica a più 8 rispetto alla Vigo e alla Mezzia una vittoria che permette questo è il primo gol di Umbaga e poi c'è il raddoppio nella ripresa da parte di Trentinella che lo vediamo adesso sugli sviluppi di un calcio d'angolo una vittoria che permette appunto a San Biase di rimanere prima in classifica ed estromettere dalla lotta al vertice appunto il il cittanò vediamo adesso la Vigor che ha vinto 4 a 0 sul campo della Palmese il punteggio dice che non c'è stata assolutamente storia una sconfitta che purtroppo per la Palmese significa play out ma san sicuro e certi che la formazione del Patron Sergi ha le qualità e anche la possibilità di potersi sganciare da queste zone brutte della graduatoria questo è il primo gol della Vigor questo è il raddoppio sul calcio di rigore poi sulle ripartenze la formazione appunto di di Fanello sila il terzo gol con questo tiro da fuori aria trova impreparato forse il portiere e poi c'è il quarto gol che di fatto chiude la partita lo vediamo adesso il quarto gol andiamo a Reggio Granambri esattamente a Longhi Bovetto di Valanidi dove il Reggio Romagnese ha vinto nei minuti finali la gara con l'Isola Capo Rizzuto il match win della partita è stato il capitano Cordova tre punti importanti che permettono alla formazione di Peppe Misidi di inserirsi prepotentemente nella griglia dei playoff adesso a meno due andiamo adesso all'anticipo di sabato che si è giocato a Gioiosa tra il Gioiosa e il Bocale 2 a 2 il risultato finale un pareggio che permette al Gioiosa di respirare parzialmente ma adesso con Francesco Ferrari in panchina siamo certi e sicuro che il Gioiosa riuscirà ad escalare posizioni in classifica per il Bocale invece adesso c'è il primo gol di Gioiosa sul calcio di ricore per il Bocale un punto che permette alla formazione di Saviano di confermare la buona posizione di classifica buona posizione significa playoff c'è il pareggio del Bocale in questo momento lungo rilancio e poi nulla può fare il portiere per il appunto il pareggio della formazione rigida poi c'è il raddoppio sempre del Bocale e sul finire della partita c'è appunto il pareggio del Gioiosa andiamo l'ultima partita forse quella con un risultato un po' particolare arriva da Paola che sgancia l'ultima posizione della gradutoria vince una gara importantissima contro il Predator un risultato importante per la formazione di Paola appunto pesante questo risultato guardate il gol come arriva vai nai di rigore il tiro e la rete bene abbiamo concluso direttore allora domenica Siracusa il Siracusa tenta questa ipotetica rimonta con la capolista Tramani vorrà vincere con la regina la regina di suo conto vorrà non lasciare punte a Siracusa sì è così ma noi abbiamo già seppur con un pizzico di rammarico insomma archiviato il pareggio contro il San Luca pensiamo al Siracusa e dobbiamo pensare andare lì e cercare di vincere la partita con grande umiltà con grande determinazione con grande voglia perché abbiamo le potenzialità per poter pensare in questa maniera ma dobbiamo essere molto più determinati ma vogliamo sicuramente presentarci per cercare di vincere la gara grazie Nevio grazie a te per aver avuto l'intervento abbiamo finito ritornando al discorso di prima quello che diceva il mister Reggio Calabria mi ha formato molto come allenatore mi ha formato molto nel rapporto umano è quello che ci tengo particolarmente io ringrazio per la seconda volta il collega ed amico Peppe Praticò che cura in maniera seria professionale puntuale l'ufficio stampa della regina e se Pippo Volano prima e se Maurizio Pellegrini adesso sono intervenuti appena di direttanti non sono andati in un'altra trasmissione ma non perché il sottoscritto è carino c'è la gravata bella perché evidentemente noi in passato abbiamo seminato al rapporto amicale importante e questa la vostra presenza di Pippo Prima e di Maurizio Adesso è la dimostrazione di ciò che mi dimostrate appunto quindi grazie a voi grazie al canale 12 di 10 appuntamento a martedì l'altro grazie in media live che è lo studio che produce Pianeta Direttanti Lorenzo Amadeo Pasquale Malare Eleonora Caracciolo e Giovanni Pozzorino è il team di lavoro di Pianeta Direttanti appuntamento a martedì l'altro buonanotte questo programma è realizzato in collaborazione con sostenibilità è la parola chiave del futuro e Redel Green Energy si occupa da più di 40 anni di efficientamento energetico ed energie rinnovabili il futuro è green scegli Redel l'agricoltura è vita e noi la proteggiamo a partire dalle sue radici con soluzioni che tutelano le eccellenze dalla terra all'azienda contatta subito i nostri agenti pronti ad essere al tuo fianco per proteggere ciò che è importante per te borschi san marzano l'elisir giusto per ogni gusto